Tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Buonasera da Sergio Fuego di Orbolandia. Questa sera vi facciamo vedere due nuove opzioni per quanto riguardano le mail che troviamo su iOS 17. Allora si tratta in breve di poter mettere un link all'interno di un testo di una mail. Quindi non aggiungere l'url quindi http www eccetera ma addirittura selezionare del testo o parte del testo di una mail e fare in modo che quando il lettore che riceverà quella mail leggerà questo testo questo testo risulterà un link e dando un doppio tap si aprirà quel link che abbiamo inserito. L'altra mail invece riguarda l'aggiunta di un link a fine testo senza mettere l'url quindi http eccetera ma bensì mettendo un'icona e l'anteprima del titolo di quel link. Andiamo a vederlo facciamo prima ok apriamo mail mail 17 email non lette apriamo mail email caselle pulsante indietro modifica pulsante in entrata tutte in testazione cerca campo di ricevo avvia vettatura non letto mister magutu mail con link 2 17 e 56 andiamo a dare l'altra apriamo questa la prova numero 1 ok mail con link incorporato 1 ok qui c'è l'oggetto sentite che qui vi legge il testo normalmente attenzione le ultime parole cliccando qui link cliccando qui link e attenzione poi proseguo c'è la firma cliccando qui link e quindi noi abbiamo cliccando qui non c'è scritto http eccetera quindi diamogli un doppio tap su questo cliccando qui doppio tap e vediamo cosa succede ed ecco qui ci ha aperto il link che abbiamo messo infatti un link a un tutorial di orbolambia chiudiamo chiudiamo safari sui c'era applicazioni safari attiva mail attiva spostiamoci su mail di nuovo e mail caro mister mago torniamo indietro 18 0 in entrata tutte 16 in entrata caselle pulsante indietro modifica in entrata tutte in testazione andiamo ad aprire la seconda mail sul testo qui non abbiamo messo nessun link ma il link l'abbiamo messo a fine testo però attenzione come l'abbiamo messo orbolambia miglioramenti di accessibilità con siri screenshot e ios 17 pdf e lettura più accessibili su safari 2023 orbolambia.it urbofavi con png pulsante png attenzione cosa significa png? png significa che c'è anche una piccola immagine che è compresa nell'articolo che abbiamo linkato quindi anche qui se diamo un doppio tappo come sulla mail precedente si aprirà quella pagina di orbolambia proviamo doppio tappo ancora ciao safari immagine banner punto di riferimento visitato ok qui ovviamente c'è il titolo poi se faccio i fricchi orizzontali posso leggermi tutto l'articolo nell'immagine uno screenshot della pagina di orgolandia aperta su safari con l'arrivo di ios 17 eccetera eccetera chiudiamo di nuovo safari switcher applicazioni safari chiudi safari mail switcher applicazioni mail azione attuale chiudiamo mail chiudiamo mail l'era del cinghiale bianco forte ok qui siamo sul home del mio smartphone del mio iphone e quindi vi ho fatto vedere come diciamo mi sono inviato due mail con un link incorporato al testo e un link a fine testo ma senza per forza di cosa far vedere l'url l'html l'url ecco questo chiaramente cosa fa ci fa creare delle email un po più carine ecco un po più ordinate con molta semplicità e dire come e adesso vi faccio vedere come abbiamo fatto io e fuego a fare queste due mail bene allora andiamo a vedere come abbiamo fatto a fare quelle due mail con i link incorporati e nel modo che abbiamo appena visto la prima cosa da fare per costruirsi una mail come quelle due che abbiamo fatto bisogna avere il link in memoria allora cosa si fa prima di tutto andiamo a cercare il link quindi io apro la pagina di safari 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 immagine banner punto di riferimento ok un'illustrazione di un edificio orbolandia vediamo che articolo è archivio visitato link scorro velocemente ok questo è il link come facciamo a copiarlo ci sono mille modi potete fare condivisione sono su una pagina web io faccio semplicemente così vado e io mi posiziono sul campo di testo e gli do un doppio tap indirizzo campo di testo stai modificando https barra barra www.orbolandia.it barra post barra orbolandia miglioramenti di accessibilità con series screenshot e os 17 pdf e lettura più accessibili su safari 2023 selezionato modalità caratteri vedete mi dice selezionato io ho dato un doppio tap sull'indirizzo a questo punto con il rotore vado su modifica clicco verticale taglia copia e lo copio modificando modalità caratteri punto di inserimento all'inizio ok compiliamo la nostra mail quindi come facciamo innanzitutto le diamo un doppio tap sul campo di testo è già pronto per scrivere il mio se non c'è dovete darle doppio tap e poi cominciamo a scrivere io adesso glielo mando a Mr. Magoo molti di voi lo conosceranno K M Milano M R R M M A H G G risulta O O O Mr. Magoo andiamo a toccare Eccolo qui Mr. Magoo selezioniamolo doppio tap vado verso destra e scriviamo l'oggetto punto di inserimento alla fine allora faremo due mail quindi alla prima gli diremo sull'oggetto scriveremo sull'oggetto mail con link incorporato 1 inserito mail con link incorporato 1 avvisami pulsante corpo del messaggio chi non si aggiorna danneggia anche te punto di inserimento all'inizio all'inizio scriviamo una mail allora campo di testo doppio tap e possiamo dettare caro Mr. Magoo virgola inserito caro Mr. Magoo vabbè ha scritto Magoo correggiamo così vediamo come si corregge parole con errori ortografici caratteri virgola O O e aggiungiamo una O inserisci O O virgola invio nuova linea ti mando un link di un tutorial che ho fatto e lo puoi trovare cliccare 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 punto inserito ti mando un link di un tutorial che ho fatto e lo puoi trovare cliccare qui ok questo punto cosa facciamo andiamo a selezionare parte di questo testo quindi intanto mi porto all'inizio oggetto 1 corpo del messaggio punto di inserimento all'inizio all'inizio del testo e vado a selezionare il testo volendo potrei selezionare tutta questa frase parola invece io vado a cercare che ne so anche solo una parola o due caro mister mago ti mando un link di un tutorial che ho fatto e lo puoi trovare ecco attenzione cliccando io adesso vorrei scegliere cliccando quindi torno indietro cliccando ovviamente sto facendo i flick verticali per andare avanti indietro su parole e con il rotore mi porto su seleziona testo righe velocità voce intestazione navigazione selezione testo vado su parole selezione linea selezione parola ora che sono su selezione parola faccio i flick orizzontali verso destra e sceglierò le parole che intendo linkare cliccando è selezionato qui è selezionato eccolo qui queste due qui sono le due parole al quale voglio collegare il link alla pagina quindi ora con il rotore vado ancora su modifica attività riconoscimento descrizione modifica faccio i flick verticali leggi annulla condividi cerca seleziona tutto sostituisci incolla incolla gli do un doppio tab e questo è il link che mi ha incollato proviamo ad andare a leggere il testo corpo del messaggio oggetto corpo del messaggio campo di testo stai modificando caro mister mago ti mando un link di un tutorial che ho fatto e lo vuoi trovare cliccando qui chi non si aggiorna danneggia anche te citato punto di inserimento tra qui e chi avete visto non c'è non non si legge diciamo l'url http eccetera quindi cosa faccio vado in alto carica batteria invia pulsante e do un doppio tab su invia invia modifica pulsante e lui mi ha inviato la mail con il testo che contiene un link sulle ultime due righe adesso proviamo a fare un'altra mail la seconda che abbiamo visto scrivi pulsante di nuovo scrivi campo di testo campo di testo stai modificando modalità caratteri punto di inserimento all'inizio e a questo punto cosa facciamo? rifacciamo una mail sempre al mister mago cc barra cc a campo di testo stai modificando punto di inserimento alla fine mister mago tu eccolo qui scegliamola gmail.com andiamo avanti oggetto campo di testo doppio tab punto di inserimento alla fine e qui scriviamo 2 mail con link 2 inserito mail con link 2 ok andiamo avanti corpo del messaggio corpo del messaggio chi non si aggiorna danneggia anche te citato campo di testo punto di inserimento all'inizio e qui gli scriviamo un altro testo ancora ciao mister mago virgola inserito ancora ciao mister mago ok andiamo a capo invio nuova linea quattro parole per dire che in questa mail ti aggiungo un link a fine testo con l'anteprima del link medesimo inserito in questo mail ti aggiungo un link a fine testo con l'anteprima del link medesimo ok andiamo avanti facciamo uno spazio 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 medesimo facciamo anche il capo invio nuova linea e a questo punto andiamo sempre su modifica parole righe velocità voce intestazioni navigazione verticale selezione testo attività riconoscimento descrizione modifica e qui sempre in colla quindi verticale in colla doppio tappo htps barra barra www ok proviamo a vedere cosa c'è scritto mago torino chiocciola cime oggetto mail con link 2 campo di testo corpo del messaggio campo di testo stai modificando ancora ciao mister mago in questo mail ti aggiungo un link a fine testo con l'anteprima del link medesimo orbolandia miglioramenti di accessibilità consigli Screenshot ios 17 pdf e lettura più accessibili su safari 2023 orgolandia.it orbofabicon png link immagine nuova linea chi non si aggiorna danneggia anche te citato avete sentito che come avete visto sulla mail prima lui mi ha incollato il link ma non l'url non htps www eccetera ma l'anteprima e addirittura con una piccola immagine se ovviamente nella pagina web c'è l'immagine in questo caso c'è e quindi questo fatto quindi avete visto che è davvero molto facile comunque inviamolo invia pulsante doppio tap invia modifica pulsante e quindi abbiamo inviato se qualcuno di voi volesse avere questa guida testuale sempre nell'articolo in orbolandia oltre al tutorial audio video che state vedendo trovate anche la guida testuale bene sperando che questa cosa possa esservi utile Sergio e Fuego vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo video ciao ciao in descrizione trovi il link all'articolo su orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi grazie 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 grazie